Musica Salve a tutti e bentornati su Kill Bees Return to Dreamland Deluxe Allora, sì, lo so, nello scorso episodio ho detto che oggi avrei iniziato l'epilogo di Magolor O Magolor Epilogo Ma voglio prima finire tutte quante le missioni della lore con la medaglia d'oro Primo perché in live già penso di fare la modalità extra che porterà via un bel po' di tempo E non voglio portare troppa roba in live E poi sinceramente il mio go non lo sopporterebbe Quindi ci mancano frusta, sabbia Poi acqua e oggetti Va bene Andiamo Ci saranno un bel po' di tagli in questo video mi sa se non riesco a fare tutto per bene Però con difficoltà 2 spero di farcela adesso Sfida sabbia Ok allora No ho sbagliato Devo fare giù Ok devo riprendere bene la mano con questi Con queste abilità, non con queste ma con queste E quindi fare così Spero di farcela prima anche se non credo Aspetta Aspetta Ok Più che altro il problema è sempre il tempo Chiudo la porta un secondo Ecco fatto E adesso andiamo giù Se non prendo danno però non dovrei avere particolari problemi Perché anche il danno è una cosa che mi ha sempre dato un po' fastidio No ho sbagliato Ok Sbaglio sempre la combinazione di tassi per qualche motivo E questa cosa mi porta via un bel po' di tempo Ok Ok Due E su Ok Non ci provare tu Grazie mille Adesso Di qua Dunque questo come si faceva Così No Ok ho capito come si fa però Ho capito come si fa Ho preso danno ma non importa perché Ok Corri 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 E ok La scorsa volta evidentemente non mi Ricordo Ok ricomincio Credo di darmi tre tentativi prima di tagliare La scorsa volta che ho fatto non mi ricordavo che La parata togliesse completamente la mia hitbox E questa cosa mi aveva penalizzato Non poco Ok adesso non sbagliamo la combinazione È su e giù Su e giù Perfetto Adesso Salviamo un po' di tempo Sconfiggendo tutti i nemici Contemporaneamente Perfetto Entriamo qua No Ho sbagliato ho preso danno Accidenti Dovevo fare Nel modo Da Come si dice Da Imbroglione No È orribile imbroglione Cioè no in realtà Cioè è più corretto Vabbè non mi importa Volevo farlo nel modo Avrei dovuto farlo nel modo Mio Ecco Diciamo così Ok Domani però Veramente inizierà Magolor Epilogo Perché non ho nient'altro da fare Quindi Credo di potervelo Promettere Anche se Tanto Non mi segue praticamente nessuno Quindi A chi è che deve Promettere Così tanta roba Ok Adesso Così Cor Corri Eh volevo Fare un'altra cosa in realtà Ok Ci devo riprovare Adesso Torniamo Normali Prima E Preso Cos'è se ho guadagnato Io ho 200 monete Sì perché Ho preso Due volte il danno Vabbè Non importa Va bene così Se riesco A vincere Va bene così Ok 30 secondi Va bene Devo Correre Non ci provare Ok E Dovrei avercelo fatta Sì Entro 10 secondi E dimmi che ce l'ho fatta Non so quali fossi il record Cioè Quali fossi il requisito Per farcela Non ce l'ho fatta 23.000 Ok Se non avessi Preso danno Probabilmente ce l'avrei fatta Anche perché Avrei salvato un po' di tempo Ok Ci riprovo Poi faccio Un taglio Fino a quando Non ce l'ho fatta Adesso però Devo farlo Bene perché Vorrei cercare Di fare I meno tagli possibili Perché Non posso essere davvero Così inetto Con il gioco Vero Ok Adesso così E addio Ah no Aspetta Ok Magari dovrei Anche colpire bene I Pulsanti Per fare Per fare Più in fretta No So Per prendere danno In una maniera Molto Stupida Ma Sono riuscito A evitarlo Per fortuna Ok Adesso Giù E corri Per fortuna La palla La palla è molto lenta Quindi E giù Va bene Giù di nuovo Magari prendiamo Tutte le monete Presenti Qua Ok E Addio Manco un minuto Ok Corri 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 E ce l'ho fatta Perfetto E adesso Vediamo di arrivare su In fretta Come faccio a volare più In fretta Con Con questa abilità Si può volare più in fretta Con questa abilità Non mi pare che ci sia Una Qualcosa Un qualche tasso Che permette A Kirby di volare Va bene Allora salgo solamente Così come Faccio sempre Ho saltato un nemico Un problema No Non importa Non importa Entro i 20 secondi Dovrebbe darmi Un pochino Più i punti E Sì Uff Perfetto Per poco Ma ce l'ho fatta Quindi mi va Benissimo così Seriamente ce la faccio Con le missioni Da Cinque E Ho fatica Con quelle da Due Ok Mi mancano Tre sfide Adesso passiamo A frusta Sfide frusta Adesso Già come funziona Me l'hai Già detto La scorsa volta Via Ok Perfetto Adesso Uh Lì ci sono Altre monete Va bene E Su No Su di nuovo Grazie E Ok Molto Molto bello Questo attacco Mi piace molto Mi fa un po' Paura Ma Per fortuna Ce l'ho fatta Senza Problemi E Ok Questo attacco È molto È molto buono È molto buono Lì c'è qualcosa Però L'avevo preso La scorsa volta Ah sì che l'avevo preso La scorsa volta Ok È passato un po' di tempo Da quando ho registrato Quella parte Quindi Se non mi ricordo Qualcosa è normale Non ci provare E neanche tu E neanche voi due Uno Due Tre Quattro E Questo va più veloce Ok Questo cos'era Che non mi ricordo Uh Ok Devo fare in fretta E Vai Non è affatto difficile Questo in effetti Si può prendere Tutto quanto Molto facilmente Quanto tempo Devo metterci Per L'oro Non me lo mostra Vero No Ok Va bene così Meno pressioni Ah Non ho preso Le monete Di quei nemici Peccato Non ci provare Re Sopra C'erano Monete Vero Ok Devo prendere Giusto Ah Non neanche Non avevo preso Neanche il bronzo Wow No Avrei preso Il bronzo Si ok Questo Non è il mio Record Assolutamente Meno male Un Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi non serve perché è già la modalità storia al 100% completata, però è una questione di principio. Ok. 22.200 deve essere, eh? Ok. Via. Ok, come al solito ho tre tentativi, se non ce la faccio dopo questi tre tentativi taglio come le altre volte. No, ok, lo sapevo che stava per colpirmi, come ha fatto a non colpirmi non lo so, non mi importa. Ok. Vai. Poi di nuovo questa cosa qua, e giù. Ok, qua devo fare il più in fretta possibile. Mamma mia, stavo per prendere danno da quel magma, vero? Sì, un sacco. Ok, però ce l'ho fatta a non prendere danno e mi va bene così. Ok. Adesso. Ho fatto benissimo così. Ok. Vai. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. E dentro. E di nuovo, giù così. Uh, no, no, ho preso danno, accidenti. Ho preso due volte danno. Quanto odio i nemici quando mi fanno prendere danno. Ok, oh no, sto perdendo tempo. Sto prendendo un bel po' di tempo, però devo sconfiggere per forza tutti i nemici se voglio farcela. Ok. Ok, vai. E ce l'ho fatta. Non ho preso quel nemico. Devo aver fatto almeno 7000 punti, non posso aver fatto 7000 punti così. No, infatti. Ok. Eh, devo riprovare. Grazie. 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 Un finale assolutamente disastroso, ma comunque ce l'ho fatta. Nice. Ok, usciamo e adesso... Uff, era dell'ultima. Sfida oggetti. 38.000 devo totalizzare. Devo dire che questa è probabilmente quella che ho provato di più anche nel due episodi fa, quindi spero di farcela. Vai. Ok, giù. Vai. Dopo un po' per fortuna c'è una sorta di memoria muscolare per i tasti. Tasti. Sì, è strano detto per i tasti il... Per la memoria muscolare però... Sì, è così. Ok. Vai. Va bene. Rampiamo questo come la scorsa volta. E magari non facciamo esaurire il cannone perché come abbiamo visto la scorsa volta... Ehm... Ehm... Sì, eh... Serve, quindi meglio non farlo esaurire. Ok. 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 Ehm... Io pensavo di dover mangiare loro con... Ehm... Con... Mentre erano lì. Invece no. Ok. Va bene. Pensavo di doverne far fuori uno in realtà. Ehm... E... Poi di zucchiare la chiave. Ma invece non avrebbe neanche avuto senso perché A quel punto non avrei avuto bisogno Di due chiavi giusto? No tecnicamente no Quindi Sì io non penserò stupido Va bene Adesso giù Occhio Al bombospino No lo sapevo che avrei preso danno De lui me lo sentivo Ok Questo ricordo che era Sì era semplice Molto intuitivo Prendo questo Chiave lancio qui Prendo il cristallo Adesso con la chiave apro questo Riprendo il cristallo per passare qua sotto Sì tutto molto molto semplice Molto molto intuitivo Giusto? Ok andiamo avanti E dove devo andare adesso qua Mi mancano 15.000 punti E dovrei essere a cavallo Adesso Vai Non so in effetti se la lava mi fa danno Se ci passa sopra con questo Non avrebbe senso se me lo facessi Visto che posso passare sulle Sui Tra virgolette Geyser di lava Però Non si sa mai Ok Adesso devo entrare qua dentro Potrei farcela Ok con la bomba Adesso Sbrigiamoci ad andare Su Oh no 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 Ho perso Ho perso No ok Non ce lo posso fare Mi conviene entrare direttamente Peccato 8.000 punti non li avrò mai fatti Anche perché mi pare di aver preso danno prima Sì infatti Ok però ci sono andato molto vicino E la scorsa volta ho fatto 37 Ok Va bene Secondo tentativo Vai 3 2 1 Via In effetti perché per le monete mi mostra quel simbolo Visto che È quello il simbolo delle monete d'oro Delle monete d'oro Sì Ho avuto un calo di voce improvviso Ok quanto pare sì Non avevo Non avevo mai detto che fossero effettivamente Fatte Così Quanto pare Infatti sono molto belle Generare l'oro è sempre bello No Può essere fraintendibile Ok Adesso di qua Con chi è che avevo preso danno prima? Non mi ricordo Con un bombo spino forse Probabilmente era con un bombo spino Ok stavo per prendere danno da quelle spine Ma per fortuna non è successo Allora rifacciamo quello che ho fatto prima E ok Vai E Un'andata E' un'andata E anche l'altra Perfetto Grazie per le monete E via Perché Però è andata meglio Dai E dentro Cristallo a me Grazie Poi Chiave E' molto Noioso Lo so Sentirmi dire continuamente queste cose Però Non saprei Non saprei che altro dire Perché devo concentrarmi Quindi Chiedo venia Di nuovo Quero venia Meglio Perché chiedo Non è latino Quello si Vai Non voglio provare A vedere se la lava fa danno Anche perché Ho attentativi limitati On camera Casomai ci proverò Off camera Se non ce la faccio Ok Con la bomba però Dovrei riuscirci Abbastanza Bene Ok Manca un minuto Devo sbligarmi E Qua Adesso Qua devo andare un po' più con calma Perché se no Non ce la posso Fare appunto Ok No L'ho perso L'ho perso Ok Forse però ce la faccio Entro i 30 secondi Forse Non l'ho neanche preso danno Quindi è una cosa buona Sì In 30 secondi ce l'ho fatta Per favore Sì Oh ce l'ho fatta Uff finalmente Ho completato con la medaglia d'oro Tutte quante le missioni qui presenti E mi dai qualcosa No Va bene Allora nella prossima parte di Killbees Return to Dreamland Deluxe Seriamente Inizierò Magolor Epilogo Ok Quindi Sì Sì Alla prossima E in effetti No Killbees Return to Dreamland Deluxe Non è ancora Finito Perché devo ancora fare Vi ricordo La cosa Come si chiama La modalità extra in live Però la farò in live Però appunto Quindi Sarà un po' più lungo Quindi Sì Non c'è altro da dire Alla prossima Ciao